Peppe Macri, è partita la stagione con tanti punti. Come è andata? Quanti turisti sono venuti? Abbastanza. In alcuni punti siamo stati penalizzati soltanto dal tempo che non è stato splendido come ci si aspettava. Però tutto sommato si è registrato un buon afflusso anche sulla scorta che la gente desidera evadere, desidera fare qualcosa di nuovo anche fosse solo due o tre giorni. Poi ci sta sempre questa storia dei treni veloci dove noi vediamo apparire piemontesi che erano rari, veneti che erano rari, valdostani, friulani. Il paese più affezionato all'isola restava l'Emilia-Romagna. Invece adesso arrivano un po' anche da più lontano. Tanti italiani ma anche molti stranieri. Sì, ormai quest'isola è stata scoperta anche dai cugini francesi, i quali è già da qualche anno che la frequentano e si trovano anche bene.